In questi giorni la tanto discussa ipotesi di discarica di riceci è arrivata fino a Roma, in Parlamento, più precisamente alla Commissione Comafie. Il tutto sulla spinta dei rappresentanti dei Verdi, Onorevole Emilio Borrelli e Gianluca Carrabs. A voler ascoltare le voci dei vari protagonisti e vedere le documentazioni inerenti alla discarica è la Commissione parlamentare bicamerale di inchieste sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e degli altri illeciti ambientali e agroalimentari, di cui Borrelli è vicepresidente, poiché, secondo il deputato dei Verdi, occorre fare chiarezza sulle modalità di legittimità amministrativa della proposta, oltre che di quella ambientale. Da ieri, 31 gennaio, infatti il Parlamento ha iniziato a chiedere trasparenza sulla questione e il primo ad essere ascoltato è stato l'assessore all'ambiente della Regione Marche, Stefano Aguzzi, che ha definito la discarica di riceci utile sulla Marche Multiservizi e non a Pesaro Orbino, se fosse per noi la questione sarebbe già chiusa. Aurora aveva tempo fino al 13 gennaio per presentare i progetti e le integrazioni richieste nel maggio 2023 e invece ha fatto ricorso al TAR contro quest'ultime. La Regione si è costituita in giudizio, ma la provincia con un suo dirigente ha riaperto la trattativa che ha portato a questa proroga di sei mesi. Sulla questione si è espresso anche il deputato di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli, che afferma di aver depositato già nelle settimane scorse una interrogazione dettagliata alla Camera dei Deputati e che a breve depositerà anche una nota analoga all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica e Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. Il tema della discarica dunque sembra non trovare fine e anzi viene portato con attenzione sotto gli occhi del Parlamento sia da un lato politico che dall'altro nel tentativo che prima dello scadere di quei sei mesi di proroga concesse d'Aurora si riesca a far definitiva chiarezza sull'argomento.